Gentili telespettatori, buona giornata. Le dichiarazioni di Mario Monti, ve lo ricordate? Il governo dei professori arriva a Mario Monti, sistemerà tutto. Ve lo ricordate come ha sistemato tutto? Cioè ha sistemato proprio. Ecco, ultimamente diciamo che ha fatto delle dichiarazioni un po' estreme. Qualcuno l'ha chiamato, le dichiarazioni dittatoriali di Mario Monti. Ci vorrebbe meno democrazia, controllare l'informazione. Caspiterina. Ieri ha detto, gli italiani sono un po' di livello basso, ha detto, e in quanto livello basso poi votano e fanno delle scelte politiche per partiti e capi politici di livello basso. Secondo voi chi si riferisce? Eh? Sarà mica la Lega, Fratelli d'Italia e Berlusconi con Forza Italia? Ho qualche sospetto. Certo non parlava della sinistra, quindi per esclusione che cosa rimane? Sta dicendo che gli italiani sono sempre più ignoranti e in quanto tali votano, fanno poi delle scelte politiche per la loro condizione di scarsa cultura, eccetera, eccetera. Beh, insomma, è un vero democratico, diciamo, una persona con dei complessi di superiorità molto elevati. E Alberto Zangrillo, ogni volta che sento Zangrillo mi sembra Zarillo quello che cantava, no? Un cantante, no? Vabbè, Alberto Zangrillo, che non canta, se la prende con Mario Monti. Sentiamo che cosa gli dice. Lui, primario del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi, dice, a meno che non venga detto in modo riduttivo per strumentalizzare, dice. Zangrillo, neopresidente del Genoa americano, a Maragano, si confida in una lunga intervista a Il Giorno e parla di tutto, chiaramente di covid, di cavaliere, di calcio, e torna a criticare le eccessive preoccupazioni comunicative della comunicazione in cui spesso si incappa parlando di covid. Della variante Omicron, dice nell'ultimo lampante esempio, dice, bisogna essere razionali. Le autorità sanitarie sudafricane hanno parlato di variante particolarmente contagiosa, ebbene, anche altre cose lo sono. Pertanto, dice, non voglio minimizzare, ma occorre misurare le parole. Stiamo continuando a dire con notizie per fare audience, per fare ascolti, tutto e il contrario di tutto. In realtà, se voi guardate i giornali, i giornali online, perché qualcuno dice i giornali non li compra più nessuno, dichiarazione un po' superficialotta, i giornali non li compra più nessuno. Eh, avete ragione, ma i giornali ormai si vendono in modo diverso. Che cosa vuol dire? I giornali stampati sono quasi al minimo storico, anzi, sono sempre più in basso, le tirature dei giornali sono quasi inesistenti, giornali. Ma i giornali esistono ancora perché? Perché vendono su internet, ma non con gli abbonamenti. Quando voi aprite un articolo, a destra, a sinistra, sopra sotto, avete delle pubblicità. E funziona come sui social network. Più persone aprono quell'articolo, più pubblicità si aprono. E c'è un contatore di quante volte la pubblicità si apre. E secondo quante volte la pubblicità si è aperta, prendo quegli articoli, l'azienda che mette quelle pubblicità in quel giornale paga. Ecco, quindi noi non andate più con i due euro a comprare il giornale in edicola, ma basta aprire il computer, voi non pagate niente, ma appaiono le pubblicità intorno all'articolo che state leggendo. E così i giornali guadagnano su internet molto di più di quello che guadagnavano prima probabilmente, anzi, quasi sicuramente. E così mettono articoli con dei titoloni che servono per accalappiare, perché per un giornale online l'importante è che tu apra l'articolo. Poi che l'articolo non sia corrispondente al titolo, poco importa. Se voi notate, aprite una qualunque pagina di un giornale e c'è il titolo con la foto, e dici, guarda che notizia, e te la mettono su in maniera molto caricata. Voi schiacciate su quell'articolo, su quel titolo con foto e si apre l'articolo con un titolo diverso, molto più semplice che vi fa capire di più. Ah, già cambia l'articolo, già cambia il titolo quando lo aprite. E poi il contenuto è ancora più tenue di quel titolo. Pertanto a volte sono delle notizie inesistenti. Vi fanno leggere l'articolo e dici, ma quello che diceva nel titolo non c'è. È completamente un articolo fasullo, basato sul nulla. Ma l'importante per il giornale online è che voi abbiate aperto l'articolo, che siano spuntate le pubblicità, che voi le abbiate lette o no le pubblicità, non importa, perché si pagano comunque. Capito eh? Come funziona? È quello che dice Zangrillo, che non è un cantante. È proprio questo. I media mettono titoli accattivanti, propongono titoli improbabili, dicono, fanno dire negli articoli di tutto il controllo di tutto. Anzi, mettono sulla finta notizia clamorosa per fare aprire quegli articoli e farsi pagare le pubblicità. Questo è la comunicazione oggi. Un commercio di pubblicità. Non interessa a nessun giornale esattamente che voi capiate meglio qualcosa. A loro interessa vendere le pubblicità. Poi si passa a Mario Monti e con tutto quello che ha detto. Le differenti modalità democratiche. Dice, siamo in guerra, servirebbe una comunicazione meno democratica. Cosa ne pensa Alberto Zangrillo di queste parole? La risposta è questa. Queste evocazioni di scenari bellici sono fuori luogo e surreali. Dice, certamente non mancano le suggestioni e i condizionamenti. Ma chi realmente vive sul campo combatte le malattie, le inefficienze del sistema ed è in guerra soltanto con gli idioti. Sta parlando dei Novax. Conclude Alberto Zangrillo. Naturalmente lui non nomina la parola Novax, ma lui dice, siamo in guerra soltanto con gli idioti, con il Covid e sta parlando ovviamente di chi non è d'accordo con lui. Ecco, grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti se vi è interessato. Grazie nuovamente e a presto. Grazie.